Troppo chieti, poco termoli. I neroverdi, oggi in completo bianco, tornano al successo interno che mancava dal 29 settembre 1-0 sul Castelfidardo. I ragazzi di Gnoffo hanno calato il trissa al cospetto di un termoli che non è riuscito a dare continuità alla vittoria casalinga di mercoledì contro l'Ancona. Prima della gara consueto spettacolo musicale offerto dalla società con DJ7, l'ospite d'eccezione Annalisa Minetti, gran voce, campionessa di atletica ma soprattutto campionessa di vita. È la terza partita in sette giorni ma Gnoffo conferma i 10 undicesimi di mercoledì a fermo, unico innesto nell'undici titolare di Paolo Antonio al posto di Donza. Nel termoli torna a disposizione Barchi che ha scontato la squalifica ma siede in panchina, curva Volpi quasi esaurita. Da termoli circa 150 sostenitori, tra le due tifoserie c'è un solito gemellaggio. Dirige Cipolloni di Foligno. Pronti via è il primo tiro seppur fuori bersaglio e del termoli con Barone. Quindi il Chieti inizia a macinare gioco prendendo il pallino del match con la squadra molisana che attende per colpire in ripartezza. Al quindicesimo i neroverdi la sbloccano, falla, raccoglie di testa un tre persone di Di Paolo Antonio e in sacca di precisione. Al ventitresimo il numero 9 del Chieti prova a pungere di nuovo con una giocata a volante che però finisce a lato. È il preludio al raddoppio che arriva due minuti dopo con Sini alla prima rete stagionale, sinistro che non dà scampo a Palombo. Gara in discesa per il Chieti. Il termoli si scuote e si getta in avanti. La prima parata di Servalli arriva al ventottesimo. Puntorieri serve Barone pronto a colpire di testa. Ancora Termoli nella finale di tempo. Traini conclude di potenza ma centralmente Servalli respinge poi fuori gioco di Puntorieri. Con le immagini di Francesco Paolo Salviani passiamo alla ripresa. Termoli subito in avanti. Quarto minuto ci prova Mariani dalla distanza. Sfera di poco a lato. Poco dopo altro pericolo per il Chieti. Servalli deve smanacciare sul tiro cross di Barone. Inizia la girandola dei cambi. Il Chieti ora pensa soprattutto a controllare il match ma non disdegna di pungere. Su corner il nuovo entrato a Gibilterra sfiora il terzo gol. Al ventisettesimo uscita salvifica di Servalli su cancello. Palla ancora viva. Il tiro di Puntoriere viene murato. Ventinovesimo improvviso arriva il Tris. E ancora Fall a realizzare da pochi passi. Doppietta per lui e quinto centro stagionale. Partita in ghiaccio per il Chieti che al 42esimo ancora con Fall potrebbe segnare il quarto gol ma il palo salva la porta del Termoli. Al triplice fischio grande festa sugli spalti. Il Chieti consolida la prima posizione ora in coabitazione con Teramo e San Benedettese. Domenica prossima si torna a viaggiare. Nero Verdi a Sora.